Sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana, siamo alle Cannella, nota località turistica, siamo nel territorio del comune di Isola Caburizzuto. Occorrerà fare un tratto di strada, rigenerare per circa un chilometro, ma vanno diciamo eliminati, vanno abbattuti alcuni piccoli abusi ed inizi compiuti in questi anni. Sì, ci troviamo alle Cannella e stamattina si procederà all'abbattimento di tanti piccoli abusi sul lungomare proprio di Le Cannella. Lo scopo è quello di restituire ai cittadini la bellezza di un posto che ci ha regalato Madre Natura che purtroppo negli anni e nel tempo è stato un po' preso d'assalto da parte dei cittadini. Con l'opera di rigenerazione urbana procederemo all'abbattimento e alla riqualificazione di circa un chilometro di lungomare. Questi sono finanziamenti che non vanno assolutamente persi? Assolutamente, abbiamo l'esigenza di procedere, abbiamo l'esigenza di spenderli, di rendicontare perché è un'occasione unica che non passerà un'altra volta. Oggi siamo al 2 di aprile, quando sarà finito il tutto? Noi ci auguriamo che tutto questo possa essere completato per l'estate, per fine maggio, massimo giugno, in maniera tale da regalare ai cittadini e ai turisti la bellezza di questo posto. Un'opera di riqualificazione che viene vista di buon grado dai cittadini? Sì, dopo i primi tentennamenti abbiamo avuto grande collaborazione da parte della cittadinanza, che hanno proceduto prima all'allaccio della rete fognante e poi sono stati contenti per quello che si realizzerà. Quindi, insomma, grande collaborazione da parte della cittadinanza. Grazie. 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 Grazie.